Musica In questa puntata di Unicam News, presentato al 2 km di futuro dell'azienda Loccioni. Unicam, sede regionale del premio Asimov 2019. Ricercatori Unicam scoprono una nuova specie di pianta dell'Appennino. Al polo di informatica, interessante incontro sul tema della sicurezza informatica. Bentrovati al consueto appuntamento con Unicam News. Questi i nostri titoli, ma partiamo dal primo argomento. Nei giorni scorsi, i tecnici del gruppo Loccioni hanno presentato in Ateneo, con particolare attenzione ai docenti e agli studenti del polo di geologia, il progetto 2 km di futuro, un laboratorio di innovazione e di progettazione congiunta pubblico-privato per valorizzare l'area perifluviale dell'Esino nei pressi dell'azienda e riscoprire il fiume come risorsa energetica e culturale. Presente all'incontro anche Enrico Loccioni, presidente del gruppo Loccioni. Come al solito di necessità virtù, i problemi a volte possono diventare opportunità e questo è un esempio di determinazione tutta un po' caratteristica marchigiana perché avevamo un obiettivo di potenziare le nostre attività in un'area dove non era possibile farlo. I muri normalmente, anziché tornare indietro, si possono aggirare. E quello di stamattina tra l'altro è una rappresentazione molto interessante del nostro modello di impresa grazie all'università che ci ha invitato a questa testimonianza. E qui ritroviamo l'ambiente che poi è quello che ci permette di fare anche queste cose qua. Perciò ritroviamo i ragazzi e ho visto molta attenzione ai temi trattati. C'è la presenza di due persone, due figure più che due persone che rappresentano un po' l'impresa anche perché senza di loro, senza queste persone, gli studenti, Fabrizio Pontoni, ex studente di Camerino di questo dipartimento come avete visto è una bella preparazione tecnica, lo stesso Enrico Cristofanelli, grande preparazione manageriale e anche lui viene da questa università. Perciò rivedere le cose non nel breve ma ricostruire un po' di passato osservando il presente, quello che succede, osservando i ragazzi stamattina per progettare futuro. Questa è l'impresa insieme all'università in un territorio può fare questo ed altro. Elogio della parola di Lamberto Maffei è l'opera vincitrice della quarta edizione del premio Asimov per l'editoria scientifica divulgativa. Un libro che racconta la scienza attraverso un inno al maggior vantaggio evolutivo della nostra specie sulle altre specie viventi, la parola. Un accorato invito a riconoscerne il valore, a praticarla, ad amarla. Il vincitore è stato annunciato sabato 13 aprile nel corso della cerimonia tenuta in contemporanea in tutte le sedi tra cui Unicam, in particolare la sede di Civitanova Marche. Istituito nel 2015 dal Grand Sasso Science Institute e dall'INFN, il premio è cresciuto anche grazie alle altre realtà scientifiche italiane. Unicam ha aderito con entusiasmo ed è diventata coordinatore regionale dell'iniziativa. All'edizione 2019 hanno partecipato oltre 80 studenti di 8 istituti superiori delle Marche. Nel corso della mattinata gli studenti hanno presentato i volumi finalisti e sono state premiate le migliori due recensioni per ciascun libro, dopodiché in contemporanea in tutte le sedi è stato proclamato il vincitore. Presente alla cerimonia Unicam anche il rettore Claudio Pettinari e il direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie David Vitali. È un concorso dove si capisce che la scienza deve essere comunicata e divulgata in maniera semplice, con dei linguaggi il più possibile semplici, ma deve essere continuamente divulgata. Questo serve per far crescere meglio le nuove generazioni, ma anche per dare alle vecchie generazioni degli strumenti per comprendere i cambiamenti della società. I ricercatori Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino, gestito grazie all'accordo tra l'Università di Camerino e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in collaborazione con Luca Bracchetti di Unicam e Dimitar Usonoff, botanico dell'Università di Cosenza, hanno descritto una nuova pianta, Corridalis densiflora, subspecie appennina, dedicata all'appennino, di cui è indemica, ossia che vive solo in quel luogo ed è presente dalle Marche Umbria fino alla Calabria sul Pollino. Un'altra pianta si aggiunge dunque al già nutrito gruppo di specie descritte dai botanici dell'Università di Camerino, arricchendo l'originalità e la preziosità della flora appenninica. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato avviato un progetto triennale finanziato dal MIUR nell'ambito dei progetti PRIN, che permetterà di conoscere e catalogare le piante endemiche italiane. Oltre 1.400, un dato che ci rende il terzo paese più ricco di diversità vegetale dell'area mediterranea. Promosso dall'Università di Pisa, il progetto vede coinvolti anche i ricercatori Unicam, Conti e Bartolucci. La sezione di informatica della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam ha organizzato nei giorni scorsi Cyber Security Day, una giornata avvolta a sensibilizzare il territorio marchigiano, in particolare aziende ed enti, su un tema di stringente attualità, qual è la sicurezza informatica. Hanno partecipato numerosi non solo gli studenti e i docenti dei corsi di informatica di Unicam, ma anche rappresentanti del mondo industriale, estremamente interessati alla tematica nell'ambito dello sviluppo e della gestione delle proprie aziende. L'incontro, che è stato anche l'occasione per promuovere le relative competenze locali e nazionali, è stato aperto dai saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari e introdotto dal professor Francesco Tiezzi, docente Unicam della sezione informatica. Sono poi seguiti interventi di docenti ed esperti sia di Unicam che di altri atenei italiani. Questa puntata di Unicam News termina qui. Vi do appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora. Vi ricordo che potete trovare tutte le notizie relative all'Università di Camerino sul sito internet www.unicam.it. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS